sembrava una battaglia ormai vinta quella del comitato civico di borgo trebbia contro un impianto di biogas che dovrebbe sorgere alle mie spalle in pieno parco del trebbia e invece il colpo di scena nei giorni scorsi l'assessore in consiglio comunale ha detto che l'iter è regolare quindi si procede c'è chi li chiama chimera chi abbaglio chi più semplicemente un amaro risveglio ma al di là delle più svariate denominazioni lo stato d'animo dei cittadini di borgo trebbia è oggi un misto tra delusione e rabbia la centrale a biogas infatti nonostante le polemiche e le mobilitazioni civiche dei mesi scorsi si farà in consiglio comunale l'annuncio è stato dato dall'assessore al territorio silvio bisotti che ha garantito la correttezza dell'iter burocratico e autorizzativo una mazzata per i tantissimi cittadini della frazione piacentina che ritengono vergognoso tale comportamento dopo aver gettato fumo negli occhi ai residenti parlando di sospensione della pratica inizialmente sembrava che il sindaco avesse sospeso l'autorizzazione invece su carta non c'è mai stato niente quindi tutto per voce e poi nell'ultimo consiglio comunale alle interrogazioni del movimento 5 stelle di fratelli d'italia addirittura ha risposto l'assessore bisotti e non il sindaco dicendo che l'iter è tutto giusto quindi si può procedere per la costruzione della centrale quindi fino adesso noi quali parole di tranquillizzazione abbiamo ascoltato se invece non esiste nulla no parole di tranquillizzazione non ce ne sono perché loro hanno deciso di farla e credo che che la faranno se il giudice a cui ricordiamo non deciderà di di fermare il tutto definire regolare l'iter autorizzativo è per gli attivisti del comitato civico uno schiaffo alla realtà in quanto l'impianto a biogas di borgo trebbia è stato osteggiato dalla popolazione fin da subito e per diverse ragioni questo impianto non deve essere fatto perché è in un contesto particolare come quello di quella della frazione di borgo trebbia è vicino a scuole e abitazioni ospedale il proprietario non ha un non ha nulla per poter alimentare la centrale quindi deve importare tutto da da paesi che non sono di piacenza vengono da oltre 30 chilometri ci sarà un grosso indotto di camion abbiamo fatto una stiva di circa 6.000 6.000 camion all'anno che equivalgono più o meno a 35.000 auto che passeranno in un contesto piccolo come quello di borgo trebbia si trova all'interno del parco del trebbia dove per regolamento non si potrebbe costruire se non qualcosa che è inerente ad aziende agricole ma qui non parliamo niente non c'è niente di agricolo